Intanto, mentre attendiamo di collegarci con l'ospite di questo spazio di approfondimento, parliamo della notizia che andremo appunto a proporvi. Cresce lo spreco alimentare ogni settimana, sono gettati oltre 680 grammi di cibo a testa. È quanto leggiamo sulla DN Kronos, ma per entrare nel merito di quanto l'osservatorio che si occupa appunto di monitorare questo triste fenomeno, possiamo sicuramente definirlo in questo modo, abbiamo in collegamento il professore Andrea Segre, agronomo ed economista italiano, docente presso l'Università di Bologna. Buongiorno e benvenuto professore. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i vostri telespettatori. I dati del rapporto internazionale che si occupa appunto dello spreco alimentare ci pongono di fronte a dei numeri, a delle cifre davvero considerevoli. Ecco, cosa emerge da quest'ultimo rapporto? Ma è molto triste come avete detto voi giustamente perché il nostro osservatorio waste watcher da anni monitora lo spreco domestico in particolare, peraltro ciò che finisce nella spazzatura, ancora buono da mangiare e non si può recuperare in nessun modo, quindi maggiori rifiuto. Sono 600 grammi pro capite a settimana, fra l'altro di alimenti che farebbero bene alla nostra dieta, frutta, verdura, insalate, pane, patate che finiscono nella spazzatura. Abbiamo fatto un calcolo però, un pasto considera l'ONU sono circa 500 grammi, perché a livello domestico siamo intorno, in un anno a 35 e passa chili pro capite, insomma adesso vi risparmio tutti i calcoli, ma si arriva alla bellezza di oltre 4 miliardi di pasti che vengono sprecati in Italia all'anno, l'equivalente. Considerando una trasformazione che abbiamo fatto, sappiamo che i poveri alimentari purtroppo nel nostro paese sono ben 6 milioni, potremmo da mangiare a 4 milioni di persone. Ecco, una cosa veramente assurda. Certo, ma riguardo le cause di questo spreco, è solo una questione di cattiva abitudine? Assolutamente sì, nessuno getta via il cibo apposta, a livello domestico, sono sbagli, poca consapevolezza, anche un po' diremmo così di disattenzione dalla lista della spesa, cioè vedere cosa realmente ci serve per mangiare durante la settimana, piuttosto che alla conservazione nel frigolifero, la lettura delle etichette. Cioè ci manca, ed è un paradosso nel nostro paese, l'educazione alimentare. Parliamo solo di cibo, lo fotografiamo da tutte le parti, citiamo la dieta mediterranea, in modo così quasi ossessivo, mi viene da dire, e poi alla fine, guardando i dati, gettiamo via del cibo e l'impatto, peraltro, soprattutto nella fascia di poveri alimentari, di mangiare male, la chiamiamo malnutrizione per eccesso, cioè andare ad acquistare prodotti di basso valore nutrizionale, in realtà ha un impatto sulla salute, sul sovrappeso, sull'obesità e le patologie conseguenti, peraltro più sofferte dai poveri. Insomma, delle contraddizioni che noi cerchiamo di mettere in fila per far riflettere l'istituzione, la politica e per poter intervenire. E a questo proposito c'era tanta attesa riguardo il G7 sull'agricoltura. Ecco, quali erano le vostre aspettative e quali sono un po' i risultati di questo momento importante di confronto? Allora, noi abbiamo fatto un appello al G7 il 16 settembre, quando abbiamo presentato il rapporto internazionale Waste Watcher, proprio dedicato allo spreco nei paesi del G7, per sottolineare alcune buone pratiche in alcuni paesi e altri punti di attenzione. Ecco, il Ministro peraltro ci ha risposto quel giorno dicendo che ci sarebbe stata una particolare attenzione, in realtà nel documento non abbiamo trovato dei riferimenti particolari, noi comunque continueremo a insistere e abbiamo chiesto assieme a tanti partner a livello globale che davvero si inserisca l'educazione alimentare nelle scuole in particolare, nelle primarie, perché i nostri bambini, le famiglie, gli insegnanti sono una parte fondamentale della società e insegnare che il cibo ha valore, non sprecarlo, mangiare bene, una particolare attenzione, quindi a questo aspetto importante della nostra vita crediamo sia davvero essenziale. In conclusione, professore, quali possono essere allora ulteriori strategie anti-spreco? Intanto la prima è l'educazione alimentare, la seconda è la comunicazione, la comunicazione pubblica, quello che noi cerchiamo da fare con la campagna a spreco zero da anni, perché soltanto poi con delle rilevazioni di tipo scientifico come le nostre entriamo sostanzialmente nei comportamenti alimentari, ma non per demonizzarli, per capire semplicemente dove sbagliamo e quindi sollevare l'opportunità. Grazie, grazie di cuore professore, buon lavoro e a presto per magari sottolineare dati più clementi. Grazie, grazie ancora. Grazie a voi.